Una nuova procedura negoziata, questa volta con inviti formali anche a quelle aziende che si erano dette disponibili a partecipare alla gara d'appalto per il servizio rifiuti in città. Questa è la soluzione che l'amministrazione comunale e la SRR4 hanno formalizzato dopo la quarta procedura andata deserta. L'ufficialità dell'assenza di offerte è arrivata ieri mattina dalla centrale unica di committenza, mentre il sindaco Lucio Greco, l'assessore Grazia Robilatte e il presidente della SRR4, Salvatore Chiantia, si trovavano in prefettura Caltanissetta. Hanno avuto un confronto con il prefetto Cosima Distani. Sulla nuova procedura negoziata c'è l'assenzo sia dello stesso prefetto che dell'autorità nazionale anticorruzione. Da circa un anno si tenta in vano di assegnare il servizio per una durata di almeno 12 mesi. A breve potrebbe arrivare la determina contrarre del consiglio d'amministrazione della SRR, lo spiega anche il presidente Salvatore Chiantia. La procedura negoziata quindi riguarderà anche quelle aziende che hanno fatto sapere di non essere state invitate. Secondo Chiantia avrebbero comunque potuto partecipare. L'obiettivo comunque è evitare ulteriori contrattempi e quindi ci sarà l'invito. Entro l'arco di un mese si potrebbe chiudere con la fase delle offerte. Il prefetto però ha chiesto espressamente di accelerare sulla gara pluriennale, quella da sette anni, con un importo di almeno 200 milioni di euro. È attesa da tempo ma ad oggi non c'è ancora stata la formalizzazione della procedura. È stata una richiesta formale arrivata dal prefetto e anche dalla SRR si cercherà di dare seguito. I vertici di Tecra attendono di capire come evolverà l'intera situazione. Ad oggi non hanno mai partecipato a nessuna delle quattro procedure di gara bandite, ritenendo non profittevoli le condizioni previste per il lotto di gel a circa 6 milioni di euro per almeno un anno. L'azienda campana ha già disposto il rilascio dei cantieri negli altri comuni dell'ambito dove la gara è stata assegnata. Pare siano state inoltrate le lettere di licenziamento ai dipendenti che poi dovrebbero transitare alla ECOS SRL, l'azienda che si è giudicata la gara a Niscemi, Butera, Mazzarino, Riesi, Sommatino e Delia.